salve a tutti sono francesco dispinzieri fotografo di matrimonio molti di voi mi conoscono per chi non mi conosce mi sono appunto presentato ho organizzato un evento chiamato amori obiettivi li abbiamo presentato sui social ma ora è arrivato il momento di dirvi realmente di cosa si tratta sono degli shooting che realizzerò a voi futuri sposi 2019 2020 questi shooting verranno realizzati all'interno di opificium spazio una struttura nata da recente nella località di acireale come partecipare a amori obiettivi basta registrarsi con dei moduli che troverete online o nella fan page francesco dispinzieri o tramite il portale ma di sì o tramite il recapito telefonico una volta iscritti con delle date già stabilite sarete appunto fotografati all'interno di opificium spazio una volta fotografati sarete tutti messi online e quindi creeremo un album per voi dove attenzione la foto che prenderà più like di ogni album sarà esposta il 9 febbraio all'interno di opificium spazio dove ci sarà una festa dedicata a voi e dove ciliegina sulla torta vincerete i servizi per un matrimonio completo con dei partner ed eccezione che man mano vi illustreremo una cosa importante che tutto ciò verrà registrato e messo in onda su video regione canale 16 per 12 puntate il 9 febbraio all'interno di opificium spazio ci sarà una serata una festa dedicata a voi dove una giuria tecnica voterà gli scatti più belli che vi daranno la possibilità di vincere dei servizi per il matrimonio inoltre questa mega festa ci sarà della bella gente ci sarà del mangiare ci sarà del bere ci sarà della musica e soprattutto ci sarò io non vi rimane solo che iscrivervi e partecipare affrettatevi i posti sono limitati ciao